Rieccoci a Cundown, andiamo con le notizie di oggi sul mercato del Pescara, il lavoro della redazione di Forza Pescara.com continua a tamburo battente. Parliamo soprattutto dell'attacco perché si sono riaperte le trattative per Galano, la società ovviamente è interessata al giocatore, all'allenatore piace Galano, adesso manca solamente da trovare il punto di appoggio con il Bari, una trattativa tra le due società in questo momento non c'è ma l'interessamento è forte. Per quanto riguarda, a proposito di Forte facendo il gioco di parole, Luca Forte si è svincolato dal Varese, il giocatore classe 94 piace all'allenatore già dalle prossime ore, qualche novità potrebbe esserci perché pare che il suo arrivo a Pescara sia imminente. Per i grandi nomi invece bussa forte alla porta del Pescara Mancosu, lo sapete il giocatore non ha brillato nella scorsa stagione con il Bologna e quindi sta cercando di andare via e pare proprio Pescara sia una delle mete per questo giocatore, già dalle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare. Ma il vero obiettivo della società è Boiaci, lo vuole l'allenatore, lo vuole la società ed c'è una trattativa avviata per il giocatore. Nelle prossime giornate approfondiremo il discorso. A domani per le nuove pillole di mercato.